3500 mi piace e arriva la maglietta dell'USM Salve a tutti ragazzi, sono sempre Momenzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Siamo tornati qui con una nuova carriera allenatore Come avrete visto dal titolo signori e dalla miniatura Oggi siamo qui per il primo episodio della nuova carriera allenatore con il USM Perché nel momento in cui sto registrando signori il USM ha quasi 2000 voti Mentre Wolverhampton seconda classificata ne ha 1200 circa Quindi il USM ha battuto il Wolverhampton di circa 800-900 voti Sono tanti ragazzi, per questo vi invito subito a seguirmi su Twitch Link in descrizione perché appena finirò la carriera allenatore con l'Hamburgo Inizieremo la carriera allenatore con il Wolverhampton signori Ho deciso di far così perché in tanti hanno votato quella carriera allenatore Mi sembra giusto portarla in qualche modo e quindi la porterò su Twitch Venitemi a seguire su Twitch, signori Twitch è gratuito Come YouTube vi basterà creare un account, scrivere mezzo con due trattini bassi O cliccare il link e cliccare sul cuore per venirmi a seguire Vi aspetto Partiamo subito fortissimo con questa carriera allenatore Signori voglio 2500 mi piace per avere subito un nuovissimo episodio Ma soprattutto ragazzi se raggiungiamo i 3500 mi piace Signori comprerò la maglietta del USM Così da poterci fare i video per avere un po' di scenografia tra virgolette Quindi mi raccomando ragazzi spaccate il tasto del mi piace 3500 mi piace e arriva la maglietta del USM Detto questo signori direi che non possiamo perdere tempo Andiamo subito rapidi Non ci sarà come detto l'aumento del 60% di budget Proprio perché il USM ha già comunque un buon budget trasferimenti Andiamo in Inghilterra, andiamo nella WDOP e abbiamo il USM United I cosiddetti Hummers signori I martelli Budget trasferimenti 62.345.000 euro Guardate un po' ragazzi Il West Ham United è soprannominato l'Accademia del Calcio Per la capacità di sfornare giovani di talento Dobbiamo sicuramente fargli vincere qualcosina di più La cosa interessante però è la capacità di sfornare giovani di talento Quindi sicuramente qualche giovincello lo proveremo a tirare fuori Mi raccomando ragazzi come ben sapete il primo episodio è dedicato un po' allo studio della rosa Della formazione del modulo E lo scoprire i primi nomi magari per il calcio mercato Come al solito, come sempre Nei commenti mi aspetto tantissimi consigli per il calcio mercato Magari aspettate un secondo, guardiamo un attimo come è messa la rosa E poi cominciate a scrivere i commenti, i consigli qua sotto Chiaramente ragazzi andiamo ad accettare l'invito torneo precampionato Che ci servirà per studiare un pochettino la nostra rosa Inoltre ragazzi non vedo l'ora Non vedo l'ora di giocarmi i derby di Londra Magari con Tottenham e Chelsea E perché no, chissà Forse dato che la rivalità più accesa è quella con il Millwall Magari in una coppa d'Inghilterra Si potrebbe pure incontrare per caso Perfetto ragazzi, siamo dentro Finalmente budget trasferimenti come detto 62 milioni Budget stipendi 202 mila euro Quindi anche un buonissimo budget stipendi Andiamo a vedere le aspettative della dirigenza Fama del brand Acquista un giocatore chiave prima squadra nel ruolo centrocampista o attaccante Quindi dovremo fare un buon colpo in questi due reparti Dobbiamo qualificarci per l'Europa League signori E raggiungere gli ottavi di finale dell'FA Cup Si può fare La cosa che un pochettino non mi piace è la crescita dei giovani Perché c'era scritto che noi siamo conosciuti per sfornare dei giovani talenti Però la priorità è bassa Io non penso che utilizzerò le giovanili Ma preferisco andare ad acquistare qualche giovane magari che non si conosce Andiamo a vedere signori il modulo utilizzato standard Diciamo così È un 4-1-4-1 Quindi con Arnautovic Unica punta Onestamente ragazzi non mi fa impazzire questo modulo Semplicemente per un motivo Non viene sfruttato per niente Lanzini Ma per niente Ma proprio per niente Lanzini può fare anche il CC e l'esterno sinistro Ma come ben sapete da trequartista Spacca completamente qualunque cosa Penso che la formazione titolare per il momento sarà questa qui Anche se Cresswell non mi è mai piaciuto a me Penso ci metterò Masuaku Vi dico proprio la verità Fabiansky Masuaku Diop Balbuena Zabaleta Nobel Obiang Lanzini Felipe Anderson Antonio Al posto di Snodgrass Che era titolare E Arnautovic Prima punta C'è tanto da fare ragazzi C'è tanto da fare Abbiamo la possibilità economica di farlo Cerchiamo di farlo intelligentemente Siamo nell'Hub rosa Cerchiamo di capire un po' come muoverci già per il calciomercato Per quanto riguarda il portiere Siamo messi così così Perché sia Fabiansky che Adrian Sono leggermente anzianotti Fabiansky però almeno ha 81 di overall Io Adrian Visto che ha il contratto di scadenza Lo aggiungerei in lista trasferimenti So che comunque Non mi è mai dispiaciuto come portiere Insomma Forse un altro portiere servirà Perché anche Trott non mi ispira più di tanto Penso che Trott lo aggiungerò Alla lista trasferimenti Anzi scusate alla lista prestiti Sicuramente al 100% ragazzi Serve un terzino destro Perché qui abbiamo Zabaleta e Fredericks Non penso possa bastare Quindi forse un terzino destro serve Secondo me in difesa centrale Siamo praticamente a posto ragazzi Anzi Secondo me ci siamo Perché abbiamo Balbuena e Diop Che sono i titolari Diop che sale una valanga Ogbonna che chiaramente è un po' vecchiotto Io Ogbonna lo insererei Nella lista trasferimenti Terrei Raid Winston Raid E poi abbiamo anche Oxford Ragazzi Oxford che è tanta roba Oxford sale E lo faremo crescere Quindi secondo me Per quanto riguarda la difesa centrale Ci siamo Anche per quanto riguarda il terzino sinistro Però come per il terzino destro Non mi piace Cresswell Non mi è mai piaciuto E quindi lui lo inserisco In lista trasferimenti Ho già un'idea Per il terzino sinistro Raga Masuaku mi piace Ma penso che Come sostituto vada bene Non come titolare Abbiamo Obiang e Rice Sono ottimi Rice cresce tantissimo Ragazzi Lo conoscevo già Sarà Diventerà praticamente Il nostro centrocampista Centrale titolare E Sanchez Ragazzi Onestamente Mamma mia L'avrei proprio voluto Vendere Però vi dico la verità A centrocampo Secondo me ci siamo Perché abbiamo Obiang Rice Poi c'è Nobel Che questa stagione me la fa Perché è il capitano Abbiamo anche Jack Wilshere Quindi Quattro centrocampisti Secondo me ci stanno A meno che non ci scappa Un top Che ci potrebbe scappare Per il momento Sono a posto Passiamo agli esterni destri Ragazzi Abbiamo Antonio Snodgrass Che ha 30 anni Snodgrass Può andare assolutamente In lista trasferimenti Di Angana potrebbe crescere Si può allenare Poi abbiamo anche Jarmolenko Penso però a questo punto Di mettere Jarmolenko Titolare Al posto di Antonio Visto che comunque Jarmolenko È un nostro giocatore Jarmolenko sicuramente È pronto Per fare il titolare Sostituto Ci può essere Antonio E Di Angana Quindi sull'esterno destro Potremmo essere Assolutamente a posto Sicuramente serve Un esterno sinistro Ragazzi Perché Powell E Holland Per me Non sono assolutamente pronti Powell poteva essere Un giocatore interessante Ma ha troppo basso Di overall Felipe Anderson È l'unico esterno sinistro Che c'è Serve un esterno sinistro Assolutamente Attenzione ragazzi Perché Come trequartista Ci potrebbe essere Anche questo Edmilson Fernandez Che è in prestito Alla Fiorentina Ha 22 anni Ed ha 71 Di overall Sembra promettente Però L'overall Un pochettino Mi frena Ha un buon potenziale Perché se non erro Arriva verso l'80 Però non sono convinto Magari fatemelo sapere sotto Nei commenti Cosa ne pensate Sicuramente Lanzini Sarà il top Di questa carriera E anche gli attaccanti Vi dico la verità Non mi sconquinferano troppo Per niente Anzi Perché abbiamo Arnautovic Che è il titolare Nell'evenienza Anche esterno sinistro Abbiamo Il cicerito Hernandez Che ha 30 anni Andy Carroll Che è un bel bestione Per quanto riguarda I colpi di testa Poi abbiamo Questo Silva Potrebbe essere utile Perché fa il Triplo ruolo E poi abbiamo Lucas Perez Niente che mi Soddisfi troppo A parte Arnautovic Quindi forse Un altro attaccante Serve E qui dobbiamo fare Un po' di pulizia Mi sa Non so come comportarmi Con gli attaccanti Ragazzi Fatemelo sapere Sotto nei commenti Sono abbastanza in difficoltà Da questo punto di vista Quindi ragazzi Per fare un piccolo riassunto Sicuramente Un portiere di riserva Magari giovane Da far crescere Farlo allenare Un po' con Fabiaschi Per poi Nella seconda stagione Metterlo a titolare Terzino destro Terzino sinistro Serve qualcosa di Meglio perché Nel lungo termine Zabaleta Creswell Masuaku Eccetera Non mi Danno sicurezza Esterno destro In realtà Mi sento abbastanza coperto Iarmolenco Antonio Mi piacciono Nell'evenienza C'è anche qualche giovane Come può essere Di Angana A sinistra Sono scopertissimo A sinistra Sono scopertissimo Perché c'è Felipe Anderson Nell'evenienza Arnautovic Che forse preferirei Farlo agire Da prima punta E poi Abbiamo anche L'attaccante Silva Che può fare Il triplo ruolo Perché può fare Attaccante Esterno destro Esterno sinistro Andiamo però a vedere Ragazzi Già qualche nome Che ho in mente Allora ragazzi Eccoci qua Nel lab mercato Ho inserito Solamente giocatori Utili per la linea Difensiva Quindi mi raccomando Ragazzi Sotto nei commenti Per il prossimo episodio Mi aspetto Tanti nomi Per quanto riguarda L'esterno sinistro Qualche top Forse per il centrocampo E anche Come muovermi Per quanto riguarda L'attacco Partiamo Dal terzino sinistro Me l'avete consigliato In un miliardo Di persone Tierney ragazzi Tierney Volevo provarlo E questo Penso Sia il momento giusto Ci serve Un terzino sinistro E Tierney Assolutamente Da provare Anche perché È bello Completo Roccia Carisma Dribblatore veloce Però solo Ha CPU Ha molti dati Veramente Sopra la media E come l'accelerazione La velocità scatola La resistenza L'aggressività La potenza tiro Sembra un buon giocatore Io mi butterei Vi dico la verità Su un giocatore del genere Passando alla difesa centrale I primi due nomi Che mi sono subito Saliti In mente È Il primo È Todibo Che è un giocatore Che in questo momento Va di moda Però Si è appena trasferito Perché è molto giovane Quindi probabilmente Ci si penserà Una prossima volta Ragazzi Peccato Peccato veramente Perché sarebbe stato interessante Provarlo Se no Il classico Benjamin Pavard Nel caso ci serva Un difensore centrale O forse anche Un terzino destro Si potrebbe andare Su Pavard Ragazzi Perché abbiamo visto Che Pavard Il terzino destro Può farlo bene Sempre Per quanto riguarda I terzini destri Abbiamo Danfries Che Ha una clausola Rescissoria Di 11 milioni Terzino destro Che si è fatto notare Molto Quando ha giocato Contro l'Inter O comunque In Champions League Giocatore Che è anche Nella nazionale Olandese Quindi potrebbe essere Interessante Come Mbabu Che io conoscevo già Perché Mbabu Era nel giro Del Newcastle Però Sicuramente Sicuramente Ha fatto un'ottima figura Anch'esso in Champions League Con lo Young Boys Potrebbe essere Sicuramente Un terzino destro Ottimo Per quanto riguarda Il portiere Ragazzi Ho inserito Qualche giovane Che ancora Ha l'overall basso Sicuramente Quello che mi avete Consigliato Già in tanti Anche su Twitch È Fruchtel Che è il portiere Del Bayern Monaco 18 anni Ha un potenziale Devastante Potenziale che però È alto Per tutti questi Quattro portieri Anche per Dalberg Che è il portiere Del Watford Potenziale molto alto Invece Qui abbiamo Due portieri Che hanno Rispetto a Fruchtel E Dalberg Un potenziale Un pochettino Più basso E un overall iniziale Molto più basso Perché Lenz Ha 17 anni Ha un overall Secondo me Più basso Del 60 Però ha un potenziale Che arriva Oltre 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 L'85 Secondo me Anche Diogo Costa Del Porto È interessante Però forse I più adatti Sono Questi due Fatemi sapere Magari sotto Nei commenti Cosa ne pensate Come detto È un portiere Che non sarà Subito titolare Ma dovrà Crescere Dovremo farlo Crescere molto Andiamo a fare Gli allenamenti E vediamo subito Chi poter Inserire Per la crescita Sicuramente Questo Silva Qua Lo inseriamo È un attaccante A poca finalizzazione Va assolutamente Cresciuto Da quel punto di vista Come va cresciuto Anche questo Di Angana Potrà essere Sicuramente Interessante Essendo esterni Molto larghi Ragazzi Io li migliorerei Un po' Nel cross Vi dico la verità Perché onestamente Esterni che non sanno Crossare Non mi fanno impazzire Centrocampo Dedichiamo gli allenamenti A questo Rice Qui vi dico Proprio la verità E poi qui Vi dico la verità Altri due allenamenti Dedicati ai difensori Centrali Issa Diop E anche Oxford In attesa Chiaramente Di acquistare Qualche altro giocatore Andiamo a fare I primi allenamenti Ragazzi Non vanno benissimo Ma ci possiamo Lavorare Sono già carico Raga Sono già Carichissimo Sono già Carichissimo Per questo Mi voglio andare A giocare La prima parita Contro il Girona Ragazzi Non voglio far passare Troppo tempo Perché Come ben sapete Questo primo episodio È di studio Ma io Ho paura di perdere Qualche giocatore E quindi Attenzione Perché ci arrivano Le prime offerte Di trasferimento Ragazzi Per Ogbonna E per Cresswell O Criswell Forse più Criswell Le andiamo a studiare Ragazzi Il Watford Tra l'altro Per Ogbonna Ogbonna Che ha 30 anni Ha un 77 Non possiamo chiedere Molto di più Ragazzi Io vi dico la verità Le andrei a trattare Entrambe Sono due offerte Che non mi posso far Sfuggire Sia Ogbonna Che Criswell Non mi piacciono Non mi piacciono So che non devo Snaturalizzare Troppo la squadra Ragazzi Però vi dico la verità I trentenni Visto anche Quanto calano I giocatori In fretta In questo ultimo periodo Su FIFA Penso sia Meglio Cederli Hanno accettato Un'offerta Di 9 milioni 200 Per Ogbonna Andiamo a trattare Criswell Che però Non voglio svendere A 9 milioni Vi dico la verità Andiamo a trattare Anche perché Criswell Potrebbe rientrare Appunto In una trattativa Con Tierney E infatti Per Criswell Vi dico la verità Avanzo Un'offerta Di 10 milioni E 200 Molto alta Non si alzano Ragazzi Penso Non troveremo Un accordo Assolutamente Non lo troveremo Mi abbasso A 10 milioni Tondi tondi Come direbbe Alessandro Borghese Vediamo un po' Come si comportano Loro si sono alzati Molto raga Ma non è ancora Sufficiente Passiamo a 9 milioni e 9 Non mi voglio Abbassare troppo Perché come detto Potrebbe rientrare Nella trattativa Per Tierney Quindi Ecco Bonna È andato A buon fine Diciamo così A meno che Non ci siano sorprese Io ragazzi Mi vado a giocare Questa partita Per cercare Di capire un attimo Come gira la mia squadra Mi metto In panchina Qualche giocatore Utile Che voglio provare Con un Nobel Che vi dico la verità Forse si potrà sedere In panchina Al posto Di Wilshere Per fare Spazio a Wilshere Andiamo in campo Ragazzi Ci giochiamo Questa prima partita Con questo 11 Qui Andiamo a vedere Le azioni Salienti Le azioni più importanti Mamma mia Pere Pons Ci ha fatto gol Uno che si chiama Pere Che gol Tra l'altro Vantaggio Del Girona Qui un'ottima pala Filtrante Sul primo palo Fabianski Non ci arriva Ma Pere Pons ha tirato Veramente Una bella Bombazza Lanzini Per Marco Arnautovic Si gira bene Arnautovic Il destro di Arnautovic La parata Di Suarez Ma poi arriva Felipe Anderson Col tapin vincente Di testa A pareggiare i conti 1-1 West Ham 1-1 West Ham Abbiamo fatto Veramente una bellissima azione Bravo Marco Arnautovic Che da lì però Deve segnare Vi dico la verità Il portiere ha fatto Una buona parata Poi Felipe Anderson Ha approfittato Della porta sguarnita Per metterla in porta Ragazzi Sarà una bella sfida Non è facile Perché non abbiamo più L'Inter dei miracoli Sotto da controllare Ma abbiamo il West Ham Con i suoi limiti E questa cosa Mi sa che ci farà crescere Rice Lanzini Attenzione perché c'è spazio Per Wilshere La palla un po' lunga Wilshere Prova il pallonetto Jack Wilshere L'ex Arsenal Firma il 2-1 E porta in vantaggio Il West Ham Altra bella azione Altro buco Del girono Sfruttato a meraviglia Da Lanzini Guardalo lì Come si è inserito Poi Wilshere Pallonettino Cucchiaietto Perfetto Il difensore Non riesce a salvarla Toc Vabbè Ok Ci sta Passiamo in vantaggio Attenzione a Lanzini Lanzini 3-1 E anche qui Nel West Ham Abbiamo un giocatore Che da fuori area Ci farà sognare Manuel Lanzini Signori Ah così Lanzini Così Con il ginocchietto Con quel ginocchietto lì Finisce qui signori Ci portiamo a casa I primi 3 Punti Di questo Torneo Precampionato Soddisfatto Del secondo tempo Del primo tempo No Eravamo un po' Impastati Vi dico la verità Andiamo a vedere Le votazioni Il migliore in campo È stato Manuel Lanzini A seguire anche Felipe Anderson Molto bene Masuaku Molto bene anche Balbuena Un po' meno Diop Nobile o Bianche Non classificabili Ragazzi Non un granché Ho visto molto bene Quel di Angana Sulla destra E ho visto molto bene Zabaletta Ragazzi Vi dirò Vi dirò Vi dirò Quindi Quindi Sicuramente Da questa prima partita Già qualcosa si capisce Sicuramente si capisce Che forse Non posso tirare avanti Anche con O Bianche Nobile titolari Quindi sicuramente Wilshere Entrerà di prepotenza Nel centrocampo E Soprattutto Un centrocampista Difensivo Con I Controcacchi Servirebbe Un po' come Dombele per l'Amburgo Per chi mi segue Anche su Twitch Detto questo Ragazzi Io vi dico la verità Abbiamo parlato molto Vi faccio un attimo Un altro riassunto Forse un altro Portierino giovane Un terzino destro Un terzino sinistro Un centrocampista centrale E un esterno sinistro Per il momento Forse servono Per essere completi Poi chiaramente Se non riusciamo a comprarli tutti Amen Ce ne faremo una ragione E fatemi sapere Anche come comportarmi Con gli attaccanti Perché Ne abbiamo tanti Ma abbiamo solo una punta Ma soprattutto Non mi fa impazzire Nessuno di questi Soprattutto Vista anche l'età Forse un giovane Andrebbe comprato Fatemelo sapere Ragazzi Sotto nei commenti Andiamo a vedere Per gli ultimi Gli ultimi Due uffici Offerta per il prestito Di Trott Che è il portiere Giovane Giovane Ma che purtroppo Non penso Abbia un futuro Qui con noi E Andy Carroll Riceviamo un'offerta Da 7 milioni 200 Io aspetto A trattare Quest'offerta Ragazzi Fatemi sapere Sotto nei commenti Cosa ne pensate Di Andy Carroll Potremmo Potremmo Tenerlo Per Non so Per la gloria Perché Andy Carroll Forse è un po' Un simbolo Di questo West Ham Fatemelo sapere Sotto nei commenti Come detto Io spero Che questo primo video Vi sia piaciuto Ragazzi Sono convinto Che ci divertiremo Io sono già Molto divertito Vi dico la verità Noi ci vediamo Nel prossimo video Lasciate un mi piace Un commento Un consiglio Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti ragazzi